Bianco neri, sulle cente, è forte a Juve! Tessera tifoso, comprendente tessera doc e tessera tifoso, 40 euro. Per informazioni, Juventus Club Lizzano, via Matteotti 22, Lizzano. Puoi contattare il presidente Antonio Marzo, 348 80 888 03. Il vicepresidente Cristian Marzo, 349 68 00066. Il segretario Rossano Borraccino, 349 31 88 320. Il tesoriere Giuseppe Giorgiano.